L'ente bilaterale del turismo toscano ha organizzato per la quindicesima volta la borsa mercato del lavoro. I prossimi 6 e 7 febbraio alla sala Eden questo incontro tra la domanda e l'offerta. Un appuntamento fisso dove si incontreranno le aziende con le persone che vorranno accedere al mondo lavorativo per quanto riguarda il turismo. Quindi ci saranno circa 145 aziende divise in due giornate e si parla di circa 500 aspiranti lavoratori. C'è richiesta di mano d'opera, c'è richiesta di professionisti, c'è richiesta di personale qualificato. Come ogni anno sicuramente viene rinnovato il contratto stagionale e quindi c'è molta richiesta soprattutto per le profilazioni alte. Quindi si parla di chef derang, chef normali e comunque tutte quelle posizioni lavorative che servono poi all'interno di tutte le aziende. Quindi camerieri e camerieri ai piani sicuramente. Non è stato il reddito di cittadinanza, è stato uno dei mezzi con cui i lavoratori sono fuggiti da un mondo del lavoro che è sempre più precario e che purtroppo dà sempre meno garanzie. Per questo l'ente bilaterale come presidio di legalità si è sempre impegnato e quest'anno ancora di più per garantire dei contratti di lavoro che siano corretti, che garantiscono la retribuzione, i giorni di riposo e che diano anche certezza di una continuità lavorativa nel futuro. Quanta è la forza lavoro che manca in provincia di Grosseto? È tanta sia in quantità che in qualità perché in questi anni si è appunto perso attrattività del settore. Bisognerebbe che invece tutti gli operatori ma anche e soprattutto chi ha in mano le leve politiche e amministrative facesse veramente joint venture per riuscire a destagionalizzare questo settore.